Qual è il significato della presa in consegna della caserma bucciante da parte della provincia? Insomma, cosa ci attende oggi? Questo è un atto importantissimo che vede avviare con esso l'ultima fase della procedura che porterà alla realizzazione della nuova biblioteca De Meis. L'accordo di programma del 2015, nel quale la Regione Abruzzo, l'Agenzia del Demanio e la provincia di Chieti nel recepire i finanziamenti masterplan avviavano questa operazione per dare nuova vita alla biblioteca crollata diversi anni prima, oggi subisce un'accelerazione con un aggiornamento dell'accordo medesimo e il recepimento delle risorse implementari successive a completare l'opera. Lo fa attraverso l'atto formale di consegna alla provincia che è soggetto attuatore, quindi l'ente che poi darà l'avvio al cantiere e oggi possiamo dire che nel giro di un paio di mesi vedrà la luce la gara d'appalto con l'assegnazione delle opere e finalmente la provincia bucciante da ipotesi, poi sogno, poi progetto diventa cantiere. Chieti avrà dunque una cittadella della cultura? Sì, Chieti avrà una cittadella della cultura, infatti il progetto che si troverà dentro l'ex ospedale militare non comprende solo la biblioteca, ci sono i nuovi locali dell'archivio di Stato, poi c'è anche l'università con un progetto in fase di sviluppo che una volta completato vedrà alla luce un nuovo polo della cultura nell'area verde della villa comunale, un grande centro attattivo ma soprattutto una nuova vocazione per una struttura che per tanti troppi anni era stata lasciata abbandonata e che con la sinergia delle istituzioni ricordo e ringrazio anche il grande lavoro del prefetto Armando Forgione che ha seguito il tavolo dall'inizio alla fine, il lavoro della provincia, la regione, il commissario Giovanni Legnini tutti gli attori istituzionali che hanno dato uno splendido contributo finalmente questi progetti veramente si avvino a diventare realtà.